Missione compiuta anche in terra Bergamasca. Le ragazze del Bardolino Verona si impongono sul campo della pericolante Atalanta con un rassicurante 4-0 e complice l'inatteso pareggio della Torres sul campo del Venezia portano a trae le lunghezze di vantaggio sulle sarde in vista dello scontro diretto di sabato prossimo. In Lombardia Mr. Longega tiene precauzionalmente in panchina la diffidata Pagliotti mentre rientra Boni anche se non al meglio della condizione. Le veronesi potrebbero passare in vantaggio già al secondo minuto su calcio di rigore concesso per un evidente mani in area sull'assist di Valentina Boni. La stessa numero 10 Gardesana si incarica della battuta dagli 11 metri ma la sua conclusione è debole per la parata dell'estremo difensore atalantino Gamba. Il vantaggio scaligero è solamente rimandato di qualche minuto. È l'undicesimo quando Melania Gabbiadini, anche lei a rientro da un fastidioso infortunio, si invola sulla sinistra, entra in area e trafigge Gamba con un preciso diagonale ad incrociare sul secondo palo. Nonostante la giornata improvvisamente calda, il Bardolino Verona riesce a mantenere la gara su un ritmo accettabile e le occasioni più ghiotte capitano sui piedi di Silvia Toselli, pericolosa in un paio di circostanze. Una manciata di secondi prima del meritato riposo arriva il raddoppio gialloblu. Perfetto il lancio di Toselli che scavalca la linea difensiva atalantina e pesca Gabbiadini. La spi di Gonzales gialloblu si accentra e trafigge per la seconda volta la numero uno neroazzurra. L'Atalanta potrebbe riaprire il match al diciassettesimo della ripresa quando il direttore di gara concede un calcio di rigore per un presunto tocco di mano da parte di Valetto in mischia. La numero uno gialloblu Piccarelli intuisce la conclusione di Scarpellini e va a deviare la sfera sulla traversa, riprende l'attaccante aerobica che spara alle stelle. Passano quattro minuti e Patrizia Panico mette in cassaforte il risultato siglando il gol del 3-0. Dribbling del bomber gialloblu tra due avversarie e conclusione che non lascia scampo a gamba. La stessa Panico in chiusura di gara coglie il palo, riprende la sfera Girelli che appoggia in fondo alla rete il pallone del 4-0 finale. La notizia del pareggio della Torres in Laguna lancia il Bardolino Verona allo scontro diretto decisivo con un margine di tre lunghezze. Le ragazze di Mr. Longega ora sono ad un passo da una nuova straordinaria affermazione. Sabato a Calmasino si potrà scrivere un'altra pagina della favola giallo blu. Grazie a tutti. Grazie a tutti.